Kim Kardashian ferita dal comportamento di Beyoncé Perché Kim Kardashian e Beyoncé hanno litigato? E' risaputo che tra Beyoncé e Kim Kardashian non scorre buon sangue. Nonostante le due vengono viste spesso insieme a vari eventi, in realtà non sono affatto amiche. A quanto pare, la Kardashian avrebbe voluto costruire un rapporto amichevole con Beyoncé, ma la cosa non è mai stata reciproca. Anche tra i mariti, Yee Zeta, e Kanye West non cè simpatia, in due infatti hanno un conflitto in corso. Kim Kardashian non ha mai avuto alcun tipo di problema con la cantante, anzi l'ha sempre considerata straordinaria, ecco perché soffre per l'amicizia negata. . A rivalare i sentimenti della Kardashian è stata una fonte a olivodlife.com, dicendo che la star è molto ferita a causa della freddezza nei suoi confronti da parte della cantante. . Nonostante abbia fatto di tutto per farsi apprezzare ed instaurare un rapporto di amicizia, Beyoncé non ha mai mostrato la volontà di essere sua amica. . Le figlie delle star diventeranno mai amiche? O si snobberanno come le madri?. Le figlie di Kim e Beyoncé hanno quasi la stessa età, infatti la Kardashian sperava di vederle giocare insieme. Anche in questo caso, però, Beyoncé non ha mai permesso che l'occasione si presentasse. . Le due si sono riviste al matrimonio di Serena Williams, ma non cè stato nessun avvicinamento. . Kim e Beyoncé non erano amiche prima e probabilmente dopo gli scontri tra i mariti non lo saranno mai. .